Il meridio deve essere fatta in un modo lento e pressante. Non so se tutti lo sentite, ma i manichini che sono fatti con gli aeri come se fossero veri. Iniziamo a fare questa manovra che stanno facendo gli istruttori, alziamo leggermente il capo del bambino, perché in questo momento se il bambino ha la testa piegata, anche quel poco d'aria che passa da una soluzione, facendo così si chiude il passaggio d'aria. Mentre se io estendo leggermente il capo, ho una posizione neutra, quindi le vie aeree sarà in una posizione neutra e quel poco d'aria che passa funziona. adesso, se siamo da soli, chiariamo il 118. Qui vedete che hanno già inserito il 112. iniziamoci. Iniziamoci.